il grido di una madre squarcia la notte il mio bambino dov'è il mio bambino è qui in salvo vai via le risponde un poliziotto polacco dall'altra parte del filo spinato confusi fra gli adulti in questa terra di mezzo fra bielorussia e polonia diventato una trappola centinaia di minori sopravvivono in una guerriglia di cui capiscono solo la violenza aveva un anno il bambino siriano morto di freddo e di fame la vittima più giovane la sua famiglia era riuscita ad oltrepassare il confine ad entrare in europa poi un mese e mezzo nascosti nella foresta polacca la ONG che li ha soccorsi ha curato i suoi genitori ma non ha potuto far niente per lui una storia simbolo di un'infanzia che soffre nella giornata dei diritti dei minori un mondo che non ha cura dei propri figli è un mondo che deve vergognarsi le leggi europee i principi europei prevedono che chi ha diritto alla protezione umanitaria deve essere ascoltato e accolto e che soprattutto i minori non possono essere respinti se siamo davvero capaci di accoglierli possono diventare la parte più preziosa delle nostre società Zeina invece è stata rimpatriata dalle autorità bielorusse nel campo di Sinjar in Iraq i miei figli sono cresciuti in una tenda non hanno una patria se gli chiedono di dove sei rispondono con il nome del campo il caso del Grazie a tutti.